Martedì 18 giugno si è svolto un incontro negli uffici del comune di Chivasso tra il sindaco Claudio Castello, l'assessore all'ambiente Pasquale Centin e la consigliera delegata all'ambiente, Vigilanza Ambientale, Risorse Idriche e Qualità dell'Area della città metropolitana di Torino, Barbara Azzara. Erano presenti inoltre rappresentanti tecnici di Regione Piemonte e delle società SMAT e SMC, titolare delle autorizzazioni delle discariche. E' di qualche settimana fa la notizia che dal Ministero dell'Ambiente erano stati stanziati un milione e mezzo di euro per la bonifica della discarica di Regione Pozzo, a Chivasso, denaro indispensabile per la messa in sicurezza delle quattro vasche per la bonifica dell'intero sito di rifiuti non pericolosi chiuso da un anno. Ora si è già concordato un incontro per giungere appunto alla definizione di un accordo di programma che consenta di portare a termine i lavori necessari per la messa in sicurezza di tutta l'area, con particolare riferimento alla gestione del percolato e del gas di discarica e alla manutenzione degli impianti e delle barriere di copertura. Stiamo definendo la costruzione di un percolato d'otto, quindi un condotto che potrà di fatto immediatamente poter versare il percolato prodotto all'interno della discarica e in una conduttura, quindi non più l'estrazione attraverso le botti. Questo è importante ed è una parte di quella che è la riqualificazione ambientale che noi vogliamo per la discarica. Ovviamente ci aiuteranno anche fondi previsti dal Ministero, si sta costruendo per questo un piano apposito per gestire sia la parte emergenziale sia quella poi definitiva della bonifica. La vita di una discarica non cessa con la chiusura, la cessazione dell'attività di smaltimento dei rifiuti ma prosegue per parecchie decine se non centinaia di anni in termini poi di necessità di manutenzione e di costi necessari per poter garantire condizioni di sicurezza. A questi costi si aggiungono tutte le attività di monitoraggio necessarie per verificare che questi impianti non determinano rischi per la salute delle persone e per l'ambiente. Questo complesso di discariche di Regione Pozzo nel Comune di Chivasso è un complesso di discarica che è attivo dalla fine degli anni 70 in quanto in questa posizione rappresenta una vecchia discarica comunale realizzata precedentemente all'emanazione delle prime normative nazionali in materia di discariche. Poi la discarica alla fine degli anni 80 si è evoluta con la realizzazione e l'autorizzazione della discarica a Chivasso 1 che ha cessato l'attività all'inizio degli anni 90 a quale poi ha fatto seguito la discarica a Chivasso 2 che è quella dove ci troviamo noi in questo momento e noi ci troviamo in questa posizione circa che è stata attiva per tutti gli anni 90 fino all'inizio degli anni 2000. Dopodiché è stata realizzata la discarica a Chivasso 3 che è in questa posizione che ha cessato l'attività due anni fa ed è stata dotata adesso della copertura definitiva che è quella che vediamo alle spalle. La discarica a Chivasso 0 è l'ultima nata di titolarità della società Seta che ha ricevuto i rifiuti urbani dal Chivasese e anche in parte dalla città di Torino ed è in fase, possiamo vedere alle nostre spalle, è in fase di chiusura. Non è stata ancora completata la chiusura, sono dotata di una copertura provvisoria.